Non poteva che aprirsi con una visita guidata al museo dedicato a Paolo Gorini, l'illustre scienziato lodigiano, celebre tuttora nel mondo per i suoi studi sulla conservazione dei corpi, lo spettacolo teatrale che ha chiuso la rassegna Vie in musica dal chiostro. Promossa dalla Proloco, la serie di quattro eventi ha gremito in ogni occasione il chiostro del vecchio ospedale, suggestiva cornice di questa iniziativa estiva. L'Elu è il Gorini, è il titolo dell'originale intervista ricavata da un testo scritto da Alberto Carli, appassionato cultore della figura dello studioso lodigiano messa in scena sotto la regia di Piera Rossi. A curare le musiche, Sara Calvanelli A vestire i panni del giornalista al suo primo incarico al giornale, Dario Leone Sollecitato dal conte Pisani Dossi, vai e fai un buon lavoro con quello stregone Bello, eh? Primo incarico, andare a intervistare uno che vive con i morti. Eppie è il suo laboratorio di mummie. Rende di pietra i corpi dei morti, gli tagliapezzi, gli brucia... Tutti, eh? Tutti, uomini, donne, grandi, piccoli, vecchi, giovani, animali, piccoli strani scherzi della natura. La figura ancora oggi enigmatica di Paolo Gorini è stata affidata a Luciano Pagetti. Ma lei si sorprende della vittanza della carne morta ai testi legati ai minerali, bigli e solfurei costruiti nel ventre della Terra? Eh, non dei te, no? È noto che nei minerali della Terra morti scorre una limpa speciale, un mercurio primordiale che più i saggi sanno accudire, eh? Ma, 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 non credo. Non credono che questi siano gli argomenti di cui lei vi libera entro ad anni. È stato un omaggio davvero efficace con il quale la Proloquo ha voluto celebrare uno degli scienziati più rinomati dell'Odigiano, che continua a guardare i suoi concittadini dall'alto del suo piedistallo.